Mi chiamo Vilma, sono di Venezia, avevo una doppia ernia all'L4-L5 e praticamente non riuscivo neanche più a mangiare, oltre che a muovermi, a dormire, a stare seduta. Dopo un mese e mezzo di cortisone, muscolina e varie altre pastiglie, senza risolvere niente, dominando i miei fianchi e le mie inizioni, ho chiamato Antonio per un trattamento e miracolosamente dopo la prima seduta sono stato subito meglio. E poi via via le successive sempre di tutti, ho un completo, diciamo, ho una completa guarigione, tant'è che adesso faccio tutte le mie cose, l'ultimo è quella di andare a cavallo ogni volta che posso. Purtroppo fare tutti i lavori di casa perché adesso non ho più remore da questo punto di vista e sto benissimo da cinque anni, non ho più avuto nessuna decidire, ovviamente, seguendo anche i consigli su alimentazione, sedia di vita e quant'altro. E niente, sono felice, lo consiglio a tutti perché è il mio adorato idolo e quindi, cioè, chi non lo prova non può immaginare quanto beneficio può darne. Quindi, provate e andate sicuri. Grazie. Grazie Antonio, sei il mio amore stupendo. Grazie a te Vilma, grazie. Allora, mi sono dimenticata di puntualizzare una cosa, che qualche giorno prima di conoscere Antonio, dovevo subire un intervento chirurgico per l'asportazione dell'ernia che mi facevamo dire. Dovevo spendere più di 3.000 euro di intervento e poi successivamente dovevo sottopormi a ulteriori infiltrazioni, a ulteriori terapie e quant'altro di pari importo. Quindi ho risposto 6.000 euro di trattamento globale senza nessuna garanzia. E niente, insomma, criticamente, ho dato ascolto al mio sentire, sono andato ad Antonio, ripeto, e adesso sto vindo. E l'operazione? L'operazione non più fatta, anzi, figurati, no, 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 assolutamente, guai chi ti tocca. Grazie Vilma. Grazie. Grazie.